Ciao a tutti, sono Pierpaolo Piras, molti di voi già mi conoscono, altri invece mi stanno conoscendo durante questa bellissima manifestazione di affetto e solidarietà, sapete che sono affetto da una rara malattia, un linfoma che purtroppo è molto aggressivo e quindi mi ha portato a fare questa raccolta fondi tramite la piattaforma GoFundMe e tramite un conto dedicato aperto direttamente da mia moglie, che ha raggiunto, grazie a voi, in una settimana i 130 mila euro. L'obiettivo è ancora distante, però di questo passo sono sicuro che insieme a voi ci arriviamo. Ho bisogno ancora però del vostro sostegno, del vostro aiuto, perché appunto il traguardo che ci siamo prefissati è ancora distante, ma non irraggiungibile, visto che siete stati tutti splendidi e avete coinvolto anche persone che io non conosco, si sono mostrate estremamente solidari. dovrò recarmi quindi all'estero per questa famosa, oramai famosa cura delle CAR T, non vi annoierò sul trattamento CAR T, che cosa è, come si fa, perché l'ha spiegato sicuramente molto meglio, Daniela, in altri video che avete avuto modo di vedere. Niente, io vi aggiornerò passo passo, ci tenevo a fare questo video dopo una settimana in cui ho notato una fantastica manifestazione di affetto, di amore, di solidarietà, risentendo anche amici di vecchia data, di quando ero bambino, ragazzino, scuola, scuola media, scuole superiori, la mia parentesi universitaria, tutto fantastico, veramente. Questa malattia è servita anche per riallacciare dei rapporti oramai lasciati purtroppo, perché nella vita le strade poi si separano. Vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti indistintamente, l'elenco è lunghissimo, al prossimo aggiornamento. Un bacio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.